Due aerei Boeing 737 della compagnia Ryanair si sono urtati mentre si spostavano sulla pista dell'aeroporto di Dublino. Non sono stati segnalati feriti. Un portavoce riferisce due dei nostri aerei stavano rullando lentamente sulla pista dell'aeroporto questa mattina. Sembra che l'aletta di estremità di un aereo abbia urtato contro la coda dell'altro. Non c'è stato un impatto per i clienti a bordo. Ryanair ha chiesto scusa ai suoi utenti per qualsiasi disagio. L'autorità dell'aviazione irlandese ha confermato che sta indagando sull'incidente che ha coinvolto i due velivoli. Grazie per la visione!